Bella a tutti ragazzi, eccoci qua in questo nuovo video su GTA V Online Raga, oggi c'è una nuova gara particolare, speciale che ho creato per gli iNoob Gaming è una gara multiveicolo e siamo con i brunzi signori adesso vi dico chi c'è il primo è Saro, attenzione, il signor Saro Roxy poi abbiamo Stella, Ludramer e Lugozi allora iniziamo subito, che bisogna fare ma tanna ragazzi iniziamo subito a trollarci molto bene, aspettate quindi facciamo sta parte bisogna fare il giri in girello qua e attaccarsi a questo warride, ok, bianco e blu faccio messo il freno quindi easy, oh gli altri sono partiti eh ma è serena ragazzi se viaggiano allora andiamo qua ho messo un po' di GP per riscaldarci un attimino perché poi inizierà la bruza avventura ragazzi la bruzzissima avventura ho messo un po' di level asian ho messo delle parti volanti con la scrumjet c'è un po' di tutto in questa gara c'è anche la Ruiner 2000 col paracadute molto bruzzo e ora qua, attenzione qua iniziano i bestemmini perché chi tocca il container perza nooo niente ragazzi ho toccato il container le spawnate che è meglio allora prendiamo la rincorsa attenzione chi è? chi è? chi è? che mi suona? stella è prima eh ma c'è una stella oh piano concentrazione oh le ci siamo c'è preso secondo stella ragazzi sta volando attenzione mi vuole fregare la la prima posizione ma è c'è una stella? ecco qua che inizia il piccolo level asian malissimo malissimo il primo cambio molto male bisogna riscaldarmi un attimo devo riscaldare le palpebre comunque non avevo detto che ossia io l'ho detto che questa l'ho creata con le mie soffici mani e stiamo sbagliando la cosa più facile di tutta la gara ok cambio vai stella ok adesso qua c'è un altro piccolo cambio guarda ragazzi bisogna rallentare per farlo eh nooo ha rallentato troppo madonna ho rallentato troppo due minuti di gara che è arrivato è arrivato anche Lugozzi raga attenzione Lugozzi è pericoloso è un uomo molto pericoloso il buon Lugozzi comunque allora piano piano qua on my zuni ok ci siamo ora alti e c'è il check del teletrasporto guardate lassù raga cosa bisogna fare ancora ma è ancora lunga ancora bella lunga andiamo di scrumjet potenza scrumjet chi c'è dietro qualcuno ce l'ha fatta raga stella madonna che era è una campionessa ragazzi è una campionessa di questo gioco ce l'abbiamo alle calcagna ha fatto una parte level asian praticamente subito gg stella gg allora qua bisogna salire allora cerchiamo di non usare glitch ah ero un po' troppo lontano raga mi sa che ci arriva no respawniamo per un fail per pochissimo allora allora qua potrebbe andar bene sì 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 questa è buona rega questa è buona forse forse sì forse no forse sì forse no aioioioioioioo Ok, appelo, appelo, ora dobbiamo saltare in questo nero arancione, attenzione, vai Scrum Jet, ok, senza usare minimamente i glitch, ragazzi, che campioni, però ovviamente se superate tutto lo potete usare, tipo qua, perché qua non è facile. Ok, prendilo, ah, niente, adesso lo uniamo, per un pelo dovevo impennare un pelo di più, regà, questa macchina, intanto voi, regà, lasciate un bel like al video, un bel commento all'ozione che aiuta sempre, ah, dai, dai, non facciamo il glitch, proviamo a farlo normalmente, regà, senza uso di glitch. Allora, concentrazione, questo è il check, è quello più difficile di tutti. Dai, sembra buono, sembra buono, sembra buono, sembra buono, sì, yes, preso. Allora, 5 minuti di gara, ora, questo non è difficile, basta saltare dritto e dovremmo esserci, regà, dovremmo esserci, yes. Un altro check preso, vediamo se, ne carica e prendiamo anche questo, diciamo, no, niente, ci ho provato, ci ho provato, ma niente, andiamo avanti. Ora c'è la parte con la, no, qua bisogna usare il trucchetto, regà, respawniamo. Praticamente, per fare questa parte, dobbiamo, prendete la mira su dove volete andare, retromarcia, così la macchina salta di più, aprite il paracadute e andiamo a vedere se ci arriviamo. Dovremmo, dovremmo arrivarci, eh, tenete sempre la levetta analogica in basso, così la macchina mantiene la quota senza perderla. E sempre con X togliete il paracadute, ok. Ora seguiamo le frecce, sempre uguale, regà, qua, attenzione a bancarella della frutta, ma è tenna. Allora, retromarcia, salto, occhio all'albero, ovviamente non c'è il check, quindi se cadete dovete rifarvi tutto da fresco. Andiamo distruggendo la bancarella, ok, adesso lo caprende quest'altro, regà, vai, retromarcia, sempre il solito trucchetto. Regà, sta macchina l'adoro, la ruiner è fantastica, ruiner 2000, bruza bruza. Come i veri bruzzi. Allora, check preso, continuiamo. Adesso il check dovrebbe essere giù in fondo. Guardate la scritta, regà, ai Noob Gaming, creata con le soffici soffici manine dell'ozione. Ma gli altri dove sono? Eh, sono un po' lontani, peccato. Cioè, Lugozzi dietro, stella si è persa, regà. Stella si è persa. Apriamo e chiudiamo il paracadute. Madora, regà, epica, epica sta gara. Boom. Proseguiamo, ora dovrebbe esserci la scrumjet. E infatti, questa è un'altra parte un po' rognosa, regà. Abbiamo messo anche un level asian più avanti. Vedrete, vedrete, un piccolo level asian con la scrumjet fantastica, belli miei. Eccoci qua, allora. Dobbiamo atterrare sul palazzo. Aspettate, eh. Vediamo se ce la facciamo nel primo colpo. No! Cosa? Cosa? Ci siamo suicidati e non ci ha preso il check. Ma tenna che sfortuna. Allora. Eccolo. Preso, 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 regà, preso. Allora, adesso dobbiamo fare... Dobbiamo andare nell'altro palazzone. Ok, salto, turbo. Glicini, glicioni qua. Preso il check. Glicini, glicioni, che non gliciamo mai. È la prima volta, dai, che l'abbiamo usato. E allora ha saltato un po' troppo in alto. Vai. Salto. Vai, vai, vai. C'è preso, no, non c'è bisogno di respawnare, invece sì. No, bisogna respawnare, non si rigira la macchina. Puzzolente, Scrum Jet. Allora, eccola il check. Vai, salta. Vediamo se ci arriviamo precisi. Attenzione. No, niente. Per un pelo, regà, per un pelo. Allora, riprendiamo le misure. Qua bisogna saltare belli alti, regà. Ok. Eh, sto giro. O siamo giusti, giusti. Ci siamo, ci siamo. Perfetto, regà. Vabbè, qua non è un problema. Basta saltare e atterriamo diretti al check. Perfetto. Ok, ora c'è il cambio. Cambio veicolo. Dovrebbe esserci la Ruiner, se non erro. Vai, 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 vai. Salta, bruzzo signore. Precisi, regà. Perfetto. Ora ho messo una parte fantastica, regà, con il turbo. Bisogna seguire la, bisogna seguire i turbo. Adesso vi faccio vedere. Qua saltate. Aprite il paracadute. Niente, rifacciamo. Dobbiamo riuscire a trovare il timing perfetto. Ok, questo sembra buono. Sì, ok. Una volta preso il primo turbo, è tutto in discesa. Guardate che spettacolo, regà. C'è anche la curva, eh. E dovete anche girare ora. Vai. Così. Così. Madonna. Dobbiamo anche questo. Oh, no. Non mi dire che sono sceso troppo, regà. Ce la facciamo, secondo voi? Sì, 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 sì. Alla grande. Yes. Andiamo. Check preso. Di nuovo scrumjet. Boom. Facciamo saltare in aria tutto. Regà, vi ricordo il mio canale Telegram e Instagram, regà. Andatemi a seguire. Se non mi seguite ancora, sempre mi chiamo Romanaccio Kill, anche su Instagram. e lì metterò le date di uscita dei video e delle varie attività che faccio. Adesso faremo qualche live, non vi preoccupate, belli miei. Check preso. Ma gli altri dove sono? Allora, Saro è un po' indietro. Lord Furnus, Stella, a un minuto. Stella mi sa che è la seconda, è quella più vicina. Comunque qua abbiamo la parte Level Asian con la scrumjet. Let's go! Stavo dicendo, questa gara l'ho creata per gli iNew Gaming. Grandissimi. Grandissimi, bravissimi ragazzi, regà. In un loro video hanno detto che faranno una gara con me, cioè faremo una gara insieme, io e loro. Quindi attendete novità, novità belle, belle, regà. Belle novità. Fare un video con loro è veramente un onore per me, perché sono veramente simpaticissimi. E' veramente delle persone fantastiche, regà. Per chi non li conosce, scrivete iNew Gaming su YouTube e li trovate. Fanno principalmente gare mie, quindi già li ringrazio veramente tanto. E mi hanno detto che con le mie gare vanno sul sicuro. Sono un po' complicate, però dai, sono belle alla fine. Niente, non ci siamo arrivati, rispondiamo? Allora, 13 minuti di gara, siamo quasi, quasi al termine. Allora, con calma qua. Vai, per favore, tengo famiglia. Vediamo se ce la fa, siamo un po' storti. E corti. No. Riproviamo. Allora, mettiamoci qua bene. Ah, sempre storti, regà, mazzonna. Non è facile questa parte, perché bisogna salire veramente tanto. Allora, riproviamoci qua. Questa sembra buona, lunga addirittura. Invece no, regà, è perfetta. Mazzonna, che precisione. Andiamo a 14 minuti di gara. Siamo quasi al termine. Qua è abbastanza facile. E ora c'è un altro salto come quello di prima, regà. Però l'ho messo molto, molto più in alto. Ok. Rimentiamoci qua perfetti. La tecnica migliore, regà, è questa. Fermarsi. Saltare. Ah, mi sa che siamo storti. Vediamo se entriamo come prima, regà, da campioni. Ah, potevamo entrare come prima, solo che siamo stati un pizzico lenti. Vai. Questa è dritta, questa è dritta, è buona, regà, questa è dritta, è buona. Ok, ci siamo. Non esplodere, per favore. Perfetto, grazie scrumjet. Gli altri... Stanno qua dietro, regà. Per passare sta parte non bisogna toccare col paracadute i piccoli cerchi che sono là in alto. Quindi saltiamo, apriamo il paracadute. E neanche con le ruote dobbiamo... No, neanche con le ruote. Quindi se toccate i piccoli cerchi con le ruote e col paracadute... You get a racket, my friend. Ok. Teniamola. Ok. Qua bisogna abbassarsi un po', se no tocchiamo col paracadute... Ai, 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 ci siamo, l'ultimo. Ok, bisogna avere una precisione incredibile qua. Vai, 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 così ci siamo, regà. E questa è la parte finale, 17 minuti, ma è zennà. Ci ho messo un po' tanto, eh. Però non abbiamo usato glitch, non abbiamo usato niente, siamo stati puliti. Ecco qua la parte finale. Io volevo aspettare qualcuno, perché è la mia gara e non posso concludere. Però guardate la fine, la fine, che spettacolo l'ha scritta. Maggio, no ragazzi. E il traguardo sta dentro la O degli iNOOB. Spero che questo video e questa nuova mia creazione vi sia piaciuta. Lasciate un bel like per supportare il canale, un bel commento. che ricordo che rispondo sempre a tutti, o quasi sempre a tutti. Quindi commentate, ditemi la vostra, cosa ne pensate dell'eruzione, del ritorno. Un bel like e noi come sempre ci becchiamo al prossimo video. Bella regà.